Antonelli, qual è la situazione dei conti del Comune di Pescara? Manca poco al termine della legislatura. C'è anche una buona notizia, diciamolo subito. La buona notizia è che era stata avviata nel 2015 a seguito di un'espiezione del Ministero del MEF una procedura di infrazione in fronte del Comune di Pescara per un contestato sforamento del patto di stabilità. La procedura si è chiusa sia da parte del Ministero che da parte della Procura della Corte dei Conti con esito negativo nel senso che le delucidazioni fornite dal Comune hanno dimostrato che non c'era stato nessuno sforamento del patto di stabilità. Quindi i conti che abbiamo lasciato nel 2013, diciamo a metà del 2014, erano conti in ordine. C'è poi la questione del predissesto in corso su cui è intervenuta la Corte Costituzionale dicendo che la norma che permette di spalmare su 30 anni il debito pregresso è incostituzionale e quindi bisognerebbe che il legislatore tornasse su queste decisioni. Questo potrebbe creare un problema al Comune di Pescara ma anche qui abbiamo fatto degli approfondimenti. Al momento non c'è nessun rischio che la situazione finanziaria del Comune ne risenta. Certo c'è una situazione di grande attenzione. Immagino che l'amministrazione che verrà sarà un'amministrazione che dovrà prestare maggiore attenzione di quanto abbia fatto Alessandrini rispetto alla tenuta dei conti della serie. I soldi, soprattutto quando abbiamo dei debiti, non possono essere spesi per andare in vacanza ma dobbiamo garantire servizi migliori sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo ai nostri cittadini.